Quattro nuovi santi che ci spronano a perseverare sulla strada del servizio gioioso ai fratelli. Così Papa Francesco, nella messa di canonizzazione a San Pietro, disegnando le figure del parroco Zelante Vincenzo Grossi, della suora spagnola Maria dell'Immacolata Concezione, sempre a disposizione degli ultimi, dei coniugi francesi, Ludovico Marten e Maria Zellia Guerin, che vissero il servizio cristiano nella loro famiglia, dove fiori la vocazione di Santa Teresa di Gesù Bambino. Francesco nell'Omelia ripercorre le letture insistendo sul tema del servizio, mettendo in guardia dalla tentazione mondana di voler comandare sugli altri. Chi serve gli altri, aggiunge, esercita la vera autorità della Chiesa. Ricorda poi l'incompatibilità tra un modo di concepire il potere secondo criteri mondani tra ambizioni e rivismi e l'umile servizio che dovrebbe caratterizzare l'autorità secondo l'esempio di Gesù. Mette in luce la compatibilità tra il Signore esperto del patire e la nostra sofferenza. La sua gloria, afferma il Papa, non è quella dell'ambizione o della sete di dominio, ma è la gloria di amare gli uomini, condividere la loro debolezza e offrire la grazia che risale. Tutti possiamo ricevere la carità che promana dal suo cuore aperto, sia per noi stessi, sia per gli altri, diventando canali del suo amore, della sua compassione, specialmente verso quanti sono nel dolore, nell'angoscia, nello scoraggimento e nella solitudine. Grazie. 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 Grazie.